Ciao da Lucia! Vi avevo promesso di farvi vedere come si realizzava, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere dal maglioncino che sto facendo, questo punto che è molto grazioso, è molto semplice, veramente alla portata di tutti. Vediamo che c'è un po' di luce, forse non si vede bene, è veramente alla portata di tutti, quindi oggi vorrei spiegarvi come si fa questo punto, anche bicolor, perché veramente per alcune cose, specialmente per bimbi, copertine, ma anche maglioni, cose varie, cioè rimane molto molto grazioso anche bicolor, quindi io ve lo farò vedere bicolor e poi dopo voi decidete se farlo tinta unita oppure bicolor. Allora, il punto che vi sto per fare vedere è un multiplo di 4, quindi adesso andiamo a montare un po' di catenelle, vediamo, ne facciamo un po', allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oh, aspettate, a voi non capita mai questa cosa? È fantastica, fate un po' di catenelle e vi rendete conto che state lavorando col filo piccolo, invece che ho attaccato il gomitolo, aspettate, perché con la camera davanti può essere che succeda questa cosa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi facciamo quattro moduli, ho montato 16 catenelle, ora andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, entriamo nella quarta dall'uncinetto e andiamo a fare tutto un giro di maglie alte. Allora, abbiamo fatto 16 maglie alte, prima ve lo faccio vedere di un solo colore e poi ve lo farò vedere in doppio colore. Allora, per fare questo punto, fatte le nostre maglie alte, cosa facciamo? Una catenella, giriamo il lavoro, io la prima catenella la lavoro sempre, scusate, la prima maglia bassa la lavoro sempre, quindi la faccio. Dopodiché faccio 3 catenelle e, scusate, entro con una maglia bassa dopo la terza maglia, quindi la prima non la contiamo perché l'abbiamo lavorata. La 1, 2, contiamo 3 maglie alte sottostanti, entriamo tra la terza e la quarta, proprio qui in mezzo, con una maglia bassa. In questo modo, altre 3 catenelle, contiamo di nuovo 3 maglie alte ed entriamo tra la terza e la quarta, qui. Di nuovo 3 catenelle, di nuovo contiamo 1, 2, 3, dalla terza e la quarta entriamo, quindi proprio in mezzo. Di nuovo, 1, 2, 3 catenelle, contiamo 1, 2, 3, tra la terza e la quarta entriamo, 3 catenelle, 1, 2, 3, ed entriamo con una maglia bassa nella terza catenella d'inizio, in questo modo. Ecco qua. E abbiamo fatto quindi il giro di alcetti, dopodiché, per voltare, 3 catenelle, 3 catenelle, voltiamo il lavoro ed ora andremo a lavorare 3 maglie alte in ogni archetto sottostante. Ovviamente nel primo ne faremo solo 2, perché abbiamo già fatto una maglia sulla prima, altrimenti ci risulterà un aumento. Quindi avendo fatto già una maglia qui, per partire, nell'archetto ne mettiamo 2. In tutti gli altri saranno 3 maglie alte per archetto. Quindi 1, 2, 3. Prossimo archetto, senza catenelle di separazione né niente, andiamo a fare 3 maglie alte. Il mio uccellino è impazzito. 1, 2 e 3. Di nuovo, prossimo archetto, di nuovo maglie alte. 1, 2 e 3, di nuovo, prossimo archetto, 1, 2 ed essendo l'ultimo, ovviamente la terza maglia alta la andremo a fare sulla prima maglia bassa. Come all'inizio, ecco qui, vedete che bello che viene, viene proprio questa quadrettatura, in questo modo. Ora, di nuovo, una catenella, voltiamo il lavoro, facciamo la nostra maglia bassa. Io la faccio, ma se a voi non piace farla, non fatela, fate semplicemente la catenella. Quindi, di nuovo, 3 catenelle. Adesso non dobbiamo più contare, perché vedete, si vedono le separazioni tra un blocco e l'altro. Quindi, andremo semplicemente a fare la maglia bassa nella separazione tra le maglie. Di nuovo, 3 catenelle. Di nuovo, tra la separazione tra 3 maglie alte e le altre 3. Di nuovo, 3 catenelle. Di nuovo, in mezzo, nella separazione. 3 catenelle. E, essendo a fine giro, andiamo nella terza catenella d'inizio. Quindi, qui, facciamo la nostra maglia bassa. Vedete? E risulta molto carino. Ora, vi faccio vedere double color. Allora, facciamo che abbiamo già iniziato double color. Quindi, cosa faccio io? Lascio qua il nostro lavoro in sospeso. Prendo un altro colore. Faccio il mio cappietto. Lo metto sull'uncinetto. E, invece di girare il nostro lavoro, cosa faccio? Entro sulla prima maglia bassa, da dove ho iniziato. Tiro sul filo normalmente. Così, quindi, faccio, aggancio il filo. Non aspettate che lo aggancio bene, prima che tiro su anche i fili dell'azzurro. Così. 3 catenelle. 1, 2, scusate, sono uscita. 3 catenelle. Rientro con 2 maglie alte nel primo archetto. 3 nel prossimo archetto. 1, 2, 3. Nel prossimo altre 3. 1, 2, 3. Nel prossimo altre 3. 1. Questo filato prende dentro tutti i fili. Allora, 2 e 3. Vedete, si apre un pochino questo filato, quindi faccio un po' fatica. Allora, nel prossimo archetto, che è l'ultimo, cosa facciamo? Come normalmente abbiamo fatto fino adesso. Quindi, 1, 2 maglie alte all'interno dell'archetto. Così, scusate, è il problema di filato. Entriamo qui, dentro nel cappio dell'altro colore, stringiamo, ah no, scusate, ho sbagliato, perché prima raccogliamo il filo per fare la maglia alta. Entriamo nel cappio, stringiamo ed usciamo normalmente come se fosse una maglia e non un cappietto. E quindi abbiamo fatto la terza maglia alta. Ora, dobbiamo ricambiare il filo. Che cosa facciamo? In questo caso, tiriamo un attimino, tiriamo sul filo, lo prendiamo dentro e quindi facciamo la nostra prima catenella. Stringiamo l'altro filo, facciamo la catenella, voltiamo, facciamo la nostra prima maglia bassa. Io ripeto, la faccio, ma è assolutamente facoltativa. 3 catenelle, 2, 3 catenelle e andiamo avanti, come abbiamo fatto fino adesso, con la maglia bassa. 1, 2, 3, 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 terza catenella d'inizio, maglia bassa. In sospeso, lo lasciamo qua in sospeso, torniamo da questo lato e cosa facciamo? Infiliamo nella prima maglia bassa l'uncinetto, come se la stessimo lavorando normalmente. Tiriamo sul filo, 1, 2, 3 catenelle. Di nuovo partiamo col giro di maglia alta, quindi 1 e 2, perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Entriamo nel prossimo archetto, 1, 2, 3. Prossimo archetto, 1, 2 e 3. Aspettate, ecco qua, il gomitolo. Prossimo archetto, 1, 2 e 3. Prossimo ed ultimo archetto, 1, 2. Carichiamo per fare la maglia alta, stringiamo un po', infiliamo l'uncinetto, carichiamo e teniamo bene così aperto. Dobbiamo ovviamente fare entrare bene la, come si dice, la catenella. Allora, aspettate un attimo, entro, prendo il filo, esco, carico, ne faccio uscire due, carico, ne faccio uscire due, stringo l'anellino del giro precedente, vedete? Senza staccare il filo, così è molto più comodo. Allora, ve lo faccio vedere un'altra volta, da lontano, perché così ci si rende conto meglio. Allora, ora cosa faccio? Allargo un attimino. No, da questo giro posso anche non allargare, perché vedete, io ho i fili tutti e due di qua, quindi cosa faccio? Carico questo filo, stringo bene l'altro, faccio la catenella, giro, quindi volto il lavoro, e faccio la mia prima maglia bassa, perché io la lavoro sempre, però ripeto, è facoltativa. Dopodiché, uno, due, tre catenelle, e di nuovo inizio il mio lavoro normalmente. Una, due, tre catenelle, di nuovo inizio il mio lavoro normalmente. Una, due, tre catenelle, faccio normalmente, ecco qua la mia maglia bassa. Non c'è niente di diverso, l'unica cosa è che bisogna lasciare in sospeso appunto l'ultimo punto. È un modo per non dover tagliare il filo ad ogni giro. Terza catenella, vedete? Così. Sospendo. Sospendo col nostro azzurro, riprendo il filo bianco, entro nella prima maglia bassa, ecco qui, scusate, vediamo. Ok, quindi lo riprendo, uno, due, tre catenelle che è la nostra prima maglia alta, e continuo normalmente le nostre maglie alte all'interno degli archetti. Quindi, due, prossimo archetto, uno, due, tre, prossimo archetto, uno, due, tre, prossimo archetto, uno, due, tre, prossimo ed ultimo archetto, uno, scusate, due, ecco qui, carico, stringo un pochino perché è un po' grande, entro, stringo di più. Prendo il nostro punto, carico la nostra maglia e faccio la nostra maglia alta normalmente. Vedete? Così è di color, ma non dobbiamo ad ogni giro tagliare il filo, viene molto carino. Se volete fare più cicciottello questo punto, adesso vi do un'altra variante. Quindi, entriamo, scusatemi, entriamo con il nostro filo azzurro, chiudiamo, catenella, possiamo fare la nostra maglia bassa doppia, così è più cicciottoso il punto. Allora, la prima la facciamo normalmente, anche perché voi forse fate solo la catenella, la faccio io perché a me piace. Dopodiché faccio una, due, tre catenelle. Cosa facciamo? Entriamo con la maglia bassa tra le tre maglie, così. Carichiamo il filo, rientriamo, dopodiché chiudiamo. Aspettate, aspettate, ve la faccio rivedere perché questo è un cinetto piccolino per questo filo, però avevo due fili diversi. Allora, entriamo con la maglia bassa, normalmente così. Ricarichiamo per chiudere, ma non chiudiamo. Rientriamo, riacchiappiamo il filo, usciamo e abbiamo uno, due, tre, quattro anellini sull'uncinetto. Carichiamo il filo e li richiudiamo tutti e quattro. Vedete, questa è una maglia bassa doppia. Se fossi uscita bene, la vedreste anche meglio. Allora, vediamo quale devo prendere. Ecco qua, adesso ve lo faccio rivedere. Con questo uncinetto è una tragedia. Vediamo se ce la facciamo. Allora, entro, acchiappo, carico, rientro, acchiappo, dopodiché chiudo tutti e tre. Una, due, tre catenelle, entro, acchiappo, carico, non chiudo, rientro, acchiappo, carico e chiudo tutte e tre. È piccolo proprio sto uncinetto per questo filato. Uno, due e tre catenelle. E, scusate, è una maglia bassa. Entro, acchiappo, carico, non chiudo, rientro, acchiappo, ricarico e chiudo tutte le maglie. Una, due, tre catenelle. Entro, acchiappo, carico, rientro, acchiappo, ricarico e chiudo tutte le maglie. Uno, due, tre catenelle. L'ultima la facciamo normale, ovviamente, perché non ci interessa che sia cicciottosa. Ecco qui, vedete, rimangono più, diciamo, più carico il punto, rimane più cicciottello, quindi dà un effetto diverso. Allora, io spero vi sia piaciuto questo mini, mini, mini tutorial. Vi avevo promesso questo punto, o perlomeno l'avevo promesso alle mie amiche di Facebook, Creando con luce Franci, il mio gruppo. Spero veramente vi sia piaciuto questo punto, spero sia stato utile, spero di averlo spiegato bene. Io, che dire di più? Vi ho dato una, due, tre varianti, diciamo, di questo punto, di modo che possiate scegliere come eseguirlo. Spero vi sia piaciuto. Io, appunto, vi invito sul mio gruppo Facebook Creando con luce Franci. Con questo punto ho in programma un progettino veramente carino. Forse, sì, ve l'avevo fatto vedere all'inizio di questo video, proprio è un maglioncino. E che dire di più? Niente, ci vediamo al prossimo tutorial. Se avete domande, dubbi, perplessità, mi trovate sul gruppo Facebook Creando con luce Franci. Baci baci da Luci, ciao ciao!